Buonasera per ritrovarti come tutti lunedì sera con anteprime direttanti per dire direttanti per dire Vediamo allora la vittoria 4-0 del Bule Bellinzago-Cossato Continua l'ascesa del Bule Bellinzago che cala il poker a Cossato Per i Tigrotti 13 punti nelle ultime 5 giornate Zona playoff raggiunta e conferma delle ambizioni di un campionato di vertice Tutto facile per la squadra di Morinaro che passa subito in vantaggio La firma è di Bagdadi che di testa sul cross di Pisanello non sbaglia Prima del riposo doppia occasione per D'Ambrosio assistito dallo scatenato Orlando Nella primo caso tiro fuori di poco Nel secondo invece era spinta di pugni da parte di Bellesolo L'unica chance per il Cossato in tutti i 90 minuti di gioco arriva al 32esimo Ma Varvelli non riesce a finalizzare calciando a lato Nel secondo tempo il Bule mette a sicuro il risultato dopo 10 minuti Punizione di Mangolini, Ballarini di testa non lascia scampo a Bellesolo per lo 0-2 Alla quarta d'ora Bagdadi firma la sua doppietta con una tappina vincente Dopo la corta respinta della portiera di casa Al 33esimo Canino crossa dalla sinistra per Maddalena Che nella da piccola di testa appoggia in rete Il gol del definitivo 4-0 che manda in orbita il Bule Bellinzago Alcol direttante torna lunedì prossimo Alla solita ora